In questo video vedremo come inserire una caldaia all'interno della zona termica riscaldata. Lavoriamo su un file in cui è già stata realizzata la parte architettonica e i vani. Questo file contiene già le zone termiche con i vani già associati. Avviamo Termiplan. Clicchiamo su gestione zone. Per inserire la caldaia, fare doppio clic sulla zona termica di interesse. Quindi, cliccare sui tre puntini in corrispondenza della centrale termica riscaldata. In questa schermata puoi selezionare una centrale termica già esistente oppure fare doppio clic su una centrale termica per personalizzarla con i dati della tua caldaia. Nella scheda della centrale termica si inseriscono i dati del generatore. In questo caso abbiamo una caldaia a gas. Doppio clic su di essa per andare a definire il tipo di generatore. Impostiamo il generatore standard. Selezioniamo la normativa di riferimento, l'ubicazione, il combustibile, il fluido e la potenza di carico nominale. Dopodiché possiamo andare ad inserire tutti gli altri dettagli del nostro generatore direttamente all'interno di questa schermata. Clicchiamo su ok per confermare. Di nuovo ok. Selezioniamo questa centrale termica. E confermiamo le modifiche effettuate alla zona termica riscaldata. Cos'hai imparato in questo video? Hai acquisito le conoscenze necessarie per inserire una caldaia con tutti i parametri necessari al calcolo. Guarda il prossimo video. Guarda il prossimo video.